Nel golfo di Policastro quella trascorsa è stata una nottata dura. Dopo l'alluvione, la conta dei danni e le operazioni di pulizia, dove ad intervenire e lavorare senza mai fermarsi, la polizia locale, agli ordini del comandante Antonio Quintieri, i carabinieri e i vigili del fuoco. Diversi gli interventi nelle abitazioni, dove in alcuni casi è stato necessario evacuare i residenti e trasferirli presso altri parenti. Nel comune di Ispania, Capitello, l'acqua ha circondato le abitazioni, le strade e i canali sono straripati. Detriti, pietre e fango venuti giù con gravissimi danni, allagando numerose case, danni registrati anche a Torre Normanna e in località serriere. L'acqua ha inondato persino i primi piani delle abitazioni, i garage, spostando auto e mezzi e distrutto muri di cemento. Le auto parcheggiate lungo le strade sono finite per buona parte, sott'acqua. La situazione più grave è quella vissuta a Vibonati, Ispani e Santa Marina. A Vibonati sono straripati canali, cacafava, il fontana e l'anafora, portando acqua, fango e detriti dappertutto. Le aree più colpite sono località di Volio, i vintorni del campo sportivo di Vibonati e la marina di località Le Piane. Voragini si sono aperte. Una strada incontrada a San Giuliano è sprofondata. A Vibonati una frana si è verificata. Nella parte alta, un uomo rimasto intrappolato sotto al ponte della ferrovia è stato colto da malore, soccorso e trasportato all'ospedale di Sapri.